Allora Davide, come sta andando questa stagione qui in Inghilterra e come ti trovi nella città che ti hai accolto e cosa significa per te giocare in questa città? L'Inghilterra e soprattutto i tifosi del Chelsea mi hanno accolto benissimo, sono molto contento della mia avventura. Stasera è stata una grossa emozione giocare comunque nella città dove adesso mi trovo e è sempre un onore e un piacere indossare la maglia azzurra. La stampa inglese ti chiede com'è il tuo rapporto con Conte e come vedi la prossima sfida col Tottenham, che è un derby importante per voi? Il rapporto con il mister è buonissimo, è un grande allenatore che ti insegna calcio sotto tutti i punti di vista e adesso abbiamo una partita importantissima con il Tottenham e la prepareremo al massimo per portare a casa i tre punti. Ti piacerebbe riavere Conte in nazionale? Ma guarda è una domanda alla quale non posso rispondere anche per rispetto dell'attuare CT perché ci ha dimostrato di avere tanta voglia, tanta grinta e tanto carattere. Stiamo cercando di seguirlo il più possibile e penso che abbiamo dimostrato di essere un'ottima squadra, di crederci fino alla fine e quindi bene è così. Sinceramente dall'Italia cambia un po' tutto, a livello di clima soprattutto, ma anche a livello di abitudini, però devo dire che da quando sono arrivato ho conosciuto molti italiani nel quartiere dove sono, quindi mi sono sentito subito a casa e mi ha aiutato molto ad integrarmi nella vita londinese e da adesso devo dire che mi trovo molto bene.